buongiorno ragazzi e niente e vedo un'occhiata mi sembra molti di voi diversi di voi erano bambini ragazzetti vent'anni fa e ora siete diventati uomini e la domanda è magari a voi se vi sareste aspettato vent'anni fa che questo giovane proveniente dai vicenza di quelle speranze dal calciatore vi sareste potuto immaginare che sarebbe diventato l'allenatore dell'impoli era abbastanza difficile da prevedere c'era anche da prevedere e io ci fosse ancora per altri vent'anni a fare presidente perché perché insomma mi è capitato di discutere con qualcuno perché insomma a volte insomma mi capita io a quei tempi gli dicevo ma io c'è detto da fare l'allenatore ho detto da fare il dirigente io io fra due anni presidente smetto sicché mi posso permettere anche di di quello che penso invece poi insomma non è stato così al di là di tutto insomma io nel presentarvelo come allenatore innanzitutto credo che abbia i contenuti sia dal punto di vista caratteriale sia dal punto di vista tecnico per darci una mano decisiva nella gestione della squadra che in una stagione sì che sicuramente sarà più difficile forse la più difficile perché dopo dopo l'impresa della promozione direi l'impresa anche della salvezza però il primo anno insomma abbiamo il vantaggio di di godere dell'entusiasmo dell'ambiente e dei calciatori dei protagonisti i quali pur essendo dei ragazzi bravissimi e professionali al massimo ovviamente senza volerlo il secondo anno non possono avere il magari il 110 per cento di quello che magari possono esprimere nelle loro possibilità ecco ora il problema appunto per per affrontare una stagione in cui noi abbiamo pensato tra l'altro di confermare una buona parte dei componenti del gruppo il motivo principale del cambiamento e non solo quello è però è quello di trovare una voce nuova un'energia nuova e contenuti nuovi per che possano creare nella testa e nelle gambe dei nostri calciatori quel qualcosa per ripeto affrontare una stagione che si sarà forse la più difficile di sempre e credo che poi si è fatto anche un'analisi e pietro dell'andamento della stagione scorsa poi è così è normale che sia quindi abbiamo raccolto diciamo quelli sono tutti gli aspetti positivi che la squadra ha espresso magari ci siamo fosti anche delle domande sulle cose in cui avremmo potuto o possiamo migliorare quindi analizzando i numeri ci è venuto in mente si può fare anche qualcosa di meglio non voglio entrare nei particolari però siccome voi sono state tutte persone di una certa contenuto e esperienza di calcio per cui vi rimane anche facile pensare dove dove l'Empoli possa migliorare certo una stagione non è non è diciamo ovviamente diciamo ricalcare a quella a quella precedente però volendo abbiamo diciamo l'idea di avere buona parte di calciatori e quindi dell'anno scorso quindi sia a livello individuale sia a livello collettivo è infotizzabile che si possa fare anche meglio soprattutto nella fase di non possesso per esempio se mi è concesso una parola in più e poi siccome sono ragazzi da una grande serietà a me mi piace pensare che che tutti loro anche sotto l'aspetto sia individuale che di reparto possono avere un margine diciamo sì di crescita e ovviamente la scelta di ripeto di metodi nuove di idee nuove di una voce nuova e anche di un certo tipo di energia che noi abbiamo così riconosciuto in paolo insomma possono essere lo strumento migliore per perseguire questi diciamo così chiamiamoli obiettivi poi posso aggiungere che insomma noi l'abbiamo seguito in questi anni ci siamo affrontati da avversari e direi dalla prima volta su Tirol oppure la Reggiana non mi ricordo si è fatto una Coppa Italia ma prima si è fatto anche una cosa d'estate mi farei vabbè comunque noi già da avversari un'idea ci si ci si fa rispetto alle difficoltà che una squadra che magari ti può ti può creare ecco da tutto ciò insomma ne è nato questo questo discorso e credo che quello che vi ho detto sia sufficiente poi il resto è lasciare la parola a lui che che ci interessa a voi a me più di tutti. Buongiorno a tutti vorrei fare una domanda prima alla dirigenza e poi poi al mister avete spiegato bene lo hai detto anche adesso presidente le motivazioni no che hanno spinto al cambiamento però secondo me più che la voglia di cambiare un pensiero che che ho maturato molto in questi giorni e c'era la voglia anche di arrivare a Paolo Zanetti non avete mai avuto grandi dubbi su altri su altre figure e forse è una domanda difficile questa ma forse già lo scorso anno se Paolo Zanetti fosse stato libero magari sarebbe stato da noi quindi vi chiedo quanta voglia c'era di avere Paolo Zanetti ad allenare l'Empoli? Ora per dire la verità l'anno scorso no l'anno scorso poi insomma lui sarebbe liberato tardi poi ovvio lo ha fatto fatto un campionato un mese più lungo del nostro per cui noi avevamo avuto dei problemi nel dare continuità al lavoro di Dionisi ritengo uno degli allenatori più bravi che abbiamo avuto e nel rimanere male sinceramente lo sapete nel non poter dare continuità abbiamo pensato a Aurelio perché insomma anche Aurelio conoscevamo abbiamo conosciuto diciamo che abbiamo avuto ragione ecco voglio dire perché effettivamente siamo contenti di quello che è stato fatto in generale perché poi tra l'altro abbiamo continuato questa idea di essere propositivi sul piano di gioco ecco anche quello insomma ci piacerebbe dare continuità ecco però con Paolo l'anno scorso no perché ci siamo scambiati fino a una partita giustamente con l'Ascoli mi ricordo benissimo che dopo la partita ci siamo scambiati delle idee per cui e niente insomma ora guardiamo avanti tanto quello che si è fatto ci deve servire probabilmente a me lo dico sempre alle cose che non fatte bene bisogna guardare a quelle non fatte bene ragazzi questo è una cosa essendo più vecchio di voi ora di tutti se mi guardo sono proprio più vecchio e quindi ve lo posso dire non uso stare guardarsi allo specchio e vedere come siamo bravi come siamo belli ci porta fuori strada concentriamoci sulle cose tutti da me dal direttore che si può migliorare e ritengo che sia in tutti i mestieri la strada più giusta e questo è un messaggio che io quando accoglierò i giocatori a uno a uno gli dirò questo concentrati su quello che tu pensi ti manchi per migliorare magari quel 10% che da colmare ecco perché il segreto dell'empleo è quello il segreto è quello cioè i ragazzi che vengono dal settore giovanile individuare immagini di crescita soprattutto inizialmente sotto l'aspetto atletico che ci sono sempre ora noi ultimamente a delà che il settore giovanile ci ha regalato delle soddisfazioni enormi anche ora d'estate volendo come avete potuto vedere e quindi bisogna partire di lì bisogna partire di lì e partirà di sì Paolo e lo staff e Pietro partireanno proprio dall'accompagnare individualmente alla crescita, al completamento di questi ragazzi ora noi può capitare anche il giocatore che è un po' più esperto e ha bisogno di ritrovarsi al 100% e quindi siamo orgogliosi anche del fatto che qualcuno ci preferisca noi, voi, perché voi fate parte di questo meccanismo come l'ambiente più giusto per ritrovarsi e credetemi questa è la cosa di cui sia a livello giovanile mi ne vado più orgoglioso oggi siamo le famiglie dei bambini, ora è tre mesi e lo dio dai 2008 ai 2013 siamo in cima alla lista delle preferenze per poter trovare l'ambiente ideale per un percorso in un settore giovanile insomma, addirittura si sta vedendo che da settori giovanili di società importantissime vengono via perché pensano l'Empoli quindi ringrazio anche voi perché voi tutti insieme ora si è venduto i biuzzi ai Pisa però anche lui ci ha dato una mano io penso sia un prestito però poi io ero lì per farlo portare via e dargli un posto da direttore uno so direttore di Osa bisogna trovare un posto da direttore e qui insomma, sgomitano, Davide, anche qui per il seggio le sgomitano anche qui come dappertutto comunque scusate, ora basta Mister, buongiorno, benvenuto e bentornato ad Empoli sono Alessio Cocchi di pienetempoli.it ti chiedo banalmente quali sono le sensazioni, le ambizioni, le motivazioni che ti hanno spinto a sposare questo progetto anche alla luce delle parole che ha detto il Presidente che questa è l'annata più difficile Beh, innanzitutto vi saluto perché qui c'è qualcuno che sono passati vent'anni e sicuramente avevo i capelli un po' più lunghi e qualche chilo in meno oggi insomma sono cambiate tante cose e quindi per me è sicuramente un grande onore essere qui di nuovo e vestire questa maglia e sicuramente cercherò di comandare questa squadra con grandissima passione con tanto cuore e portare quello che è la mia la mia persona prima di tutto e la mia filosofia in questi anni mi sono sempre fatto conoscere prima di tutto per i miei valori per i miei principi poi il calcio in realtà non lo inventa nessuno anche se ci sono varie idee varie filosofie io sposo in pieno quella che è la filosofia tecnica del club il Presidente è stato abbastanza chiaro sul fatto delle cose che vuole da me tutto molto chiaro e prima di tutto c'è da portare la barca in porto c'è da salvare la squadra in un campionato difficile non entro nei discorsi dell'anno scorso perché chiaramente sono tutti i discorsi che voi giustamente tirate fuori ma io devo guardare da ora in poi considerato che comunque ho grande stima per il mister Andrazzoli glielo ho anche detto di persona è sicuramente per noi allenatori giovani un punto di riferimento e mi lascia una buona eredità anche se la squadra per forza di cose cambierà pelle per più di qualche giocatore le sensazioni sono straordinarie io devo innanzitutto ringraziare il Presidente per la fiducia e anche il direttore che ha creduto in me tantissimo credo che tra me e lui sia nato un feeling importante ragioniamo il calcio allo stesso modo e questo credo che sia determinante per poi trasmetterlo ai ragazzi il campionato sarà difficile questo è evidente perché ogni stagione è a sé quindi è inutile fare anche dei paragoni sia col passato parlare di futuro ogni campionato è diverso e porta con sé delle problematiche delle dinamiche diverse e l'Empoli sicuramente lotta per un obiettivo ben chiaro che è quello di salvarci ma non solo in risposta alla tua domanda esattamente questo è il motivo per il quale anch'io ho scelto l'Empoli in realtà ho scelto in un minuto è bastato veramente poco nonostante fossi in ballo con altre situazioni ma nel momento che ho avuto questa chiamata in un minuto abbiamo fatto questa cosa e il motivo principale è che l'Empoli vuole arrivare all'obiettivo mediante una filosofia ben precisa l'Empoli vuole giocare al calcio e per calcio si intende proporre un'idea che al suo interno i calciatori possano divertirsi e prima di tutto valorizzarsi quindi questo è credo che sia quello che io so fare e quindi non ho avuto alcun dubbio nel fare questa scelta Ciao mister, Tommaso Carmignani La Nazione Radio Lady ti chiedo prima a te una domanda anche io sia per te che per la società intanto ti chiedo se in prosecuzione a quello che hai appena detto se è anche uno stimolo per la tua carriera il fatto comunque di arrivare in un ambiente che viene da una promozione da una salvezza quindi è un ambiente che ha entusiasmo che sta vincendo e si sa che insomma entrare dove si è vinto forse è un po' più difficile che entrare dove invece c'è da ricostruire quindi ti chiedo se questo è per te anche uno stimolo uno stimolo in più anche a livello personale e invece la società vado un po' più nello specifico sul discorso mercato perché il Presidente ha detto vogliamo confermare insomma cerchiamo di confermare gran parte del gruppo alla luce di quello che è già successo vi chiedo quindi se giocatori come Vicario piuttosto che Viti o Parisi o Bairami se c'è la possibilità di tenerli se pensate a questo punto di tenerli questi giocatori o se è ancora presto per fare certi discorsi legati appunto a questi uomini Allora parto io intanto buongiorno a tutti e ben ritrovati grazie per essere qui così tanti in presenza allora per quanto riguarda il mercato noi come sempre abbiamo le idee chiare abbiamo fatto un investimento importante di questo ringrazio il Presidente che che per una società come l'Empoli non è scontato che è stato quello di comprare un portiere per una cifra importante come Vicario lo abbiamo fatto perché noi lo vogliamo tenere poi è chiaro che non dobbiamo perdere quella che è sempre stata la nostra forza cioè puntare sui giovani puntare su questi ragazzi ma allo stesso tempo se dovessero arrivare delle offerte importanti per il bene dell'Empoli e dei ragazzi saremo costretti a prenderli in considerazione però ad oggi noi Vicario lo riteniamo un portiere dell'Empoli e non abbiamo intenzione di cederlo sì allora per rispondere a Tommaso io penso di avere una qualità importante che è quella che quando quando cado poi quando mi rialzo sono migliorato e soprattutto sono avvelenato dunque questo ve lo dico mi è già successo in passato con l'Ascoli poi l'anno dopo ho fatto la storia a Venezia e quando sono arrivato a Venezia le domande erano le stesse c'era come dire della diffidenza e credo che oggi invece ho un posto nella storia del club e soprattutto nel cuore della gente quindi un piccolo pensiero lo voglio dire anche per loro non per i club Venezia ma per le persone per i veneziani perché l'anno scorso per rimanere ho fatto una scelta che dimostra quello che sono ho scelto la via più difficile e l'ho fatto anche quest'anno perché io credo che un allenatore alla mia età debba prima di tutto esprimersi debba anche prendersi il rischio di cadere per migliorare io oggi mi sento migliorato al di là di quello che è successo l'anno scorso che poi certe cose hanno tanti motivi tante sfaccettature che spesso all'esterno non si sanno ma il fatto di essere rimasto l'anno scorso mi ha dato un posto non solo nella storia ma anche nel cuore dei veneziani quindi io un pensiero per loro c'è e ci sarà sempre ed è la stessa cosa che vorrei fare qui questo è il mio obiettivo qui parto con un vantaggio che sono stato qui tre anni ho vinto il campionato di B mi sono salvato in serie A quindi l'ambiente lo conosco bene conosco bene il presidente non mi serve tanto tempo per integrarmi la città è una città meravigliosa con delle persone straordinarie dove nel tempo ho mantenuto molti rapporti quindi tuttora qui ho molti amici che mi accoglieranno con grande calore mi motiva sicuramente il fatto di arrivare in un posto che sta facendo bene ma che nel tempo ha sempre fatto bene perché comunque una società come l'Empoli ci può stare che abbia la difficoltà di rimanere in serie A per tantissimi anni è una cosa che nel tempo ci sta ma l'Empoli per quello che è ha fatto cose straordinarie il marito sicuramente del presidente in una città del genere fare così tanti anni di Serie A che adossiano 14 se non sbaglio è veramente tantissimo quindi sono motivato a dare continuità a questo Salve Paolo Lencione del Tirreno due cose una tecnica sul contratto perché forse mi è sfuggito per quanti anni due con l'opzione sul terzo e poi una domanda su questa stagione che sarà necessariamente diversa da tutte le altre per il calendario cioè una preparazione un po' più complessa un lungo stop dopo novembre ecco non so se avete pensato a qualche sistema per affrontarlo è un problema che avranno tutti ma insomma immagino sia un bel problema per la preparazione sì è sicuramente una stagione anomala che metterà a dura prova più che gli allenatori i preparatori atletici perché chiaramente le preparazioni devono essere calibrate in questo senso e ci sarà poi un'altra sorta di preparazione in quel periodo di 52 giorni di stop dove per forza di cose le forze vanno calibrate in maniera differente dagli altri anni è una cosa nuova non solo per noi ma per tutti quindi sicuramente so di avere uno staff di altissimo livello che è l'unione tra le forze della società e il mio staff che già in questi giorni sta lavorando duro e ho la grandissima sensazione di di portare alla squadra un servizio di alto livello e quindi non sono assolutamente preoccupato la partita più importante è sempre quella che arriva quindi è soprattutto per l'allenatore perché è inutile che ci nascondiamo al di là dei discorsi dell'anno prima dell'anno dopo allenatori noi siamo legati ai risultati quindi il discorso è questo non dobbiamo fare risultati e soprattutto presentare un calcio di un certo tipo questo è il nostro obiettivo avere continuità nel tempo e dare sempre l'impressione di essere squadra e sono degli obiettivi non scontati degli obiettivi difficili soprattutto quando si va ad amalgamare di nuovo una squadra perché è vero che gran parte probabilmente dei ragazzi resteranno probabilmente qualcuno ci sta che parta ma altri invece arriveranno quindi dobbiamo essere ora bravissimi in preparazione a creare subito un'amalgama importante e soprattutto un gruppo che abbia una grandissima mentalità perché una squadra come la nostra non può prescindere da avere una mentalità vincente di avere grande aggressività di andare tutti i giorni a 100 all'ora e di lavorare sempre per andare più forte dell'avversario perché spesso tecnicamente potrà essere più forte di noi Bentornato Alessandra Nespeca 50 canale Antenna 50 ti chiedo mister quale sarà il marchio di fabbrica della tua squadra cioè guardando l'Empoli direi questo è l'Empoli di Zanetti la caratteristica principale anche se alcuni giocatori potrebbero cambiare sì diciamo che tutte le mie squadre sono sempre state squadre molto aggressive sicuramente ci tengo molto all'organizzazione per l'organizzazione non intendo solo quella offensiva anche quella difensiva credo che è importante fare un calcio propositivo ma non significa tralasciare altre cose quindi io cerco di lavorare su tutti gli aspetti penso che nel calcio tutti gli aspetti siano importanti comprese le palline attive che hanno una percentuale altissima fase offensiva fase difensiva l'equilibrio la mentalità gli aspetti psicologici i rapporti con l'esterno ci sono tantissime sfaccettature per un allenatore che non si può secondo me abbandonare nessun aspetto quindi quello che mi interessa è che la squadra abbia un'identità chiara che non significa essere fossilizzati su un sistema di gioco per quello che riguarda l'aspetto offensivo mi spiego sicuramente lavoreremo con la difesa 4 con il centro campo però per quello che riguarda i tre davanti io vedo un calcio dinamico vedo un calcio imprevedibile credo che noi abbiamo dei giocatori che si sposano perfettamente prima che mi veni in mente Bairami che spero che rimanga con noi perché secondo me è un ragazzo che ha sempre ultimamente adottato una posizione dove ha fatto molto bene però le migliori cose per me le ha fatte sull'esterno ho questa sensazione presuntuosamente da quello che vedo da fuori e quindi dico questo perché perché quello che mi interessa è mettere i calciatori nella loro posizione congeniale e penso che sia il miste che debba adattarsi alle loro caratteristiche e non ho chiesto al direttore calciatori che entrino dentro nel mio modo ma dei calciatori duttili che possano nelle esigenze adattarsi Bairami è uno di questi uno che può giocare dentro al campo può giocare fuori un po' più largo e ce ne sono anche altri Satriano è un altro ragazzo che ha delle qualità che gli permettono di essere duttile e quindi in questo senso nella fase offensiva cercheremo di essere i più imprevedibili possibili mentre nella fase difensiva l'identità invece deve essere importante Buongiorno Giacomo Cioni Gazzetta Anza Radio Sportiva mi rivolgo al direttore sportivo Accardi perché questa stagione il presidente insomma potrà dare atto è partita dalla conferma di Accardi che non era così scontata almeno dava questa sensazione oltre quando è stato deciso di non prolungare con mister Andrea Azzoli quindi cos'è chiedo ad Accardi che ti ha portato a restare qua probabilmente c'erano anche delle altre squadre che dopo questi anni buoni fatti a Empoli ti avevano fatto delle offerte e come sta andando il calcio mercato riferimento magari anche a qualche richiesta o comunque ragionamento fatto con il nuovo mister sì non nascondo che quest'anno ho avuto delle richieste il presidente ne era a conoscenza ma la mia priorità è sempre stata quella di rimanere ad Empoli e di parlare dopo la fine della stagione con il presidente di progetto non appena l'ho fatto non ho avuto nessun dubbio e la motivazione è molto semplice penso che qui si possa ancora crescere sono un ambizioso credo che della mia ambizione ne usufruisca anche la società e voglio crescere ancora con questa squadra con questa realtà voglio continuare a fare bene quindi queste sono state le motivazioni che mi hanno fatto scegliere di continuare pur avendo delle altre richieste un po' l'altra domanda sì allora penso che rispetto allo scorso anno siamo già abbastanza avanti perché l'80% della squadra è fatta abbiamo fatto se non mi sbaglio 5 già innesti con la riconferma di Vicario poi abbiamo preso Perisan abbiamo fatto un investimento su un portiere sloveno che è Stubliar abbiamo preso un terzino destro abbiamo preso il play che può fare anche la mezzala abbiamo preso i due attaccanti quindi siamo già abbastanza avanti vediamo da qui in avanti cosa succederà nello scacchiere parlando sempre con il mister perché noi nella costruzione della squadra stiamo siamo in contatto continuo e condividiamo tutto con l'allenatore ci manca una mezzala e poi un centrale difensivo e due seconde punte che possano giocare sia a due che fare gli attaccanti esterni questi sono gli obiettivi ancora da centrare grazie ciao mister Gianmarco Lotti GoNews Repubblica Firenze si è parlato dell'ambiente che hai ritrovato dopo 20 anni però hai già avuto modo di parlare con i ragazzi che allenerai che ambiente hai trovato per quanto riguarda lo spogliatoio che ti troverai a allenare e soprattutto che giovane hai trovato visto che si è parlato dei giovani che vengono da Monteboro e che saranno inseriti in prima squadra sì in realtà inizia domani la stagione quindi oggi pomeriggio incontrerò con dei colloqui individuali una buona parte dei ragazzi con altri soprattutto i nuovi arrivi ovviamente ho già parlato in questi due giorni incontrerò tutti e oggi non riesco a dare una risposta precisa sui ragazzi l'ambiente invece è cambiato molto per quello che è anche gli ambienti fisici rispetto a un bel po' di anni fa ecco quindi insomma vedo che anche gli spogliatoi tutto quanto insomma è tutto molto curato c'è questa quest'area in più i campi sono straordinari il centro sportivo di Monteboro è qualcosa di unico dove penso che il nostro settore giovanile insomma possa ritenersi più che fortunato e se le cose vanno bene anche a marito delle strutture che oltre alla competenza ovviamente tecnica ma anche delle strutture che la società ha a disposizione perché non è una cosa scontata poter crescere in un centro sportivo del genere quindi l'Empoli è all'avanguardia lo è in tutto lo è in prima squadra lo è nel settore giovanile quindi ovviamente tutto questo è di grandissimo stimolo perché non ci manca niente per dare sempre il 100% quindi questo è la pretesa che giustamente la società ha verso di me ma è la stessa identica pretesa che ho io verso i giocatori penso che a Empoli si possa sbagliare qualche passaggio probabilmente ma non si può sbagliare l'atteggiamento la mentalità non si può sbagliare Paolo ha introdotto una cosa diciamo molto sottile quella preferenza che i procuratori le famiglie è che a Empoli i due passaggi si possono sbagliare o anche si può fare con una prestazione da 5 e mezzo per cui i nostri tifosi voi e tutti siamo molto tolleranti comprensivi e abbiamo la mentalità tutti di accompagnare i giovani a un percorso di crescita per cui questo ci porta un vantaggio perché poi da quell'altra parte le mettono da una parte dice io io non ci vuoi perché se sbaglio due partite anzi una e la squadra fa 0 a 0 e quindi a noi insomma grazie anche a voi perché ripeto questa cosa l'abbiamo l'abbiamo creata tutti insieme ora mi viene a mente anche chi non c'è più scusami se mi permetto di toccare anche questo dato perché sai questi sono tutti i ragazzi che avevano 20 anni poi c'erano anche gli che ne avevano 50 o 60 che non ci sono più e come a livello personale come dirigente io penso sempre nelle vittorie e nelle sconfitte alle persone tutte che hanno aiutato me la società e anche voi io ora non voglio fare nomi ma questi ragazzi sanno a chi mi riferisco e comunque ritrovo la parola al Ministro sui due passaggi se possono sbagliare buongiorno a tutti Maurizio Zini Easy News Press Agency e Telecentro Teleturia due televisioni regionali buongiorno come ho detto prima ciao Presidente una piacevole sorpresa ritrovare qui proprio il direttore Accardi ecco ha detto prima mister è già nato un feeling il feeling credo che sia molto importante soprattutto in realtà diciamo un po' provinciali più piccoline come Empoli ma dove si può esprimere secondo me i concetti che te hai espresso prima cosa non prendere gol e poi soprattutto cercare in modo asfissiante permettimi questo termine il gol in prospettiva sì sì hai detto esattamente tutto col direttore è nato un feeling ma credo che insomma i feeling non nascono volendolo no nascono perché devono succedere ci si incontra si fa una chiacchierata e si capisce che sia sulla stessa linea il direttore ha detto di essere ambizioso anch'io sono molto ambizioso io comunque ancora oggi ho 39 anni sono un attore più giovane della serie A e alleno già da 5-6 anni quindi comunque al di là della mia giovane età mi ritengo di aver già maturato una buona esperienza anche perché le categorie le ho fatte tutte ho avuto gioia ho avuto dolori insomma sono tutte esperienze però non ci fermiamo qui il presidente vuole di fianco a sé delle persone ambiziose perché per l'ambizione non si intende che vogliamo utilizzare l'Empoli per andare chissà dove noi vogliamo portare l'Empoli più in alto possibile perché questa è poi l'ambizione perché se no sarebbe riduttivo secondo me fare un discorso del genere usare l'Empoli per andare chissà dove questo secondo me lo devono fare i giovani calciatori invece gli allenatori i direttori devono secondo me hanno come compito quello di elevare le società dove lavorano ma per il resto il calcio hai riassunto il calcio in due parole non bisogna prendere gol e bisogna fare di tutto per farne questo è il calcio il calcio è il riassunto il problema che lì lì in mezzo c'è poi ci sono tante cose c'è una filosofia c'è un un modo diverso per arrivare a a questi obiettivi e dove alla base c'è il lavoro la prima cosa c'è il lavoro c'è il tanto lavoro le cose non arrivano a caso arrivano con il lavoro con il lavoro sul campo con il lavoro fuori con il lavoro dello staff con il lavoro della società che decide la mentalità perché la mentalità la dà il club e l'allenatore è il braccio secondo me per mantenerla ma non esiste mentalità dell'allenatore se la società non la sposa quindi anche lì il feeling nasce da questo abbiamo la stessa mentalità vediamo il calcio nello stesso modo e soprattutto vediamo un calcio con una mentalità importante Ciao mister David Biuzzi e siccome ero uno di quelli che c'era vent'anni fa ma Paolo Zanetti allenatore se e come farebbe giocare Paolo Zanetti calciatore curiosità mia Sì probabilmente sì a correre nel senso che non avevo delle caratteristiche per come piacciono a me i giocatori sono stato un portatore d'acqua io penso di aver fatto molto rispetto a quello che erano le mie reali qualità comunque ho fatto sei anni di serie A sei anni di serie B poi ho avuto migliaia di infortuni però spesso la testa la testa non significa non divertirsi fuori dal campo ma il lavoro sul campo io lì sono sempre stato al top e questa cosa qua me la porto dietro la mentalità che dicevo prima può far fare a dei giocatori degli step che loro stessi nemmeno sanno di poter fare se poi un ragazzo ha delle qualità ha delle potenzialità lì ecco lì si impenna è andata così buongiorno mister Marco Girardini 50 canale antenna 50 l'anno passato l'Empoli ha fatto un grande campionato a mio avviso ma il presidente ha detto in introduzione che dobbiamo provare a migliorare questa è la logica e credo che sia un punto di partenza molto importante dopo una bella stagione come quella dell'anno scorso a un certo punto sembrava scontato che l'Empoli dovesse stare lì in realtà in partenza non era così facile la ricetta per te dell'equilibrio altro termine che nel calcio funziona molto equilibrio fra un gioco bello d'attacco aggressivo come hai detto preferire e però la forza di riuscire a prendere qualche gol in meno perché forse l'altro anno uno dei difetti è stato questo dell'Empoli diciamo che è normale che mi venga a rispondere che il lavoro poi dopo è l'unica medicina ci sono varie cose c'è la strategia ci sono tipi di partite si può decidere quanti uomini portare sopra la linea della palla e quanti invece tenerli un po' più sotto l'equilibrio si ricerca secondo me non solamente ragionando su noi stessi ma anche con lo studio dell'avversario mi fai una domanda che la mia risposta sembra che l'anno scorso non sia stata fatta ma io non voglio assolutamente parlare di quello che è stato fatto l'anno scorso e l'ho anche predetto prima e mi viene chiesto di migliorare una fase e io cercherò di portare quello che è la mia idea per migliorare una fase perché poi ci sono delle annate che magari anche se se ci lavori non ci riesci ci sono delle squadre che hanno delle determinate caratteristiche che magari si difendono bene e non fanno mai gol quindi non è sempre tutto colpa dell'allenatore voglio dire sia o merito l'allenatore ha delle percentuali delle percentuali importanti però diciamo che le caratteristiche dei calciatori servono anche ad indirizzare le caratteristiche di squadra non male che se tu hai due terzini che spingono molto e hai dei difensori dietro che devono sapere reggere l'uno contro uno un contro degli attaccanti di altissimo livello cioè ci può stare che qualche partita tu possa anche prendere dei gol e prenderne anche tanti se la tua scelta è quella di attaccare a prescindere ma attaccare non vuol dire per forza sbilanciarsi significa anche muoversi bene muoversi in un certo modo andare ad attaccare gli spazi che gli altri ti concedono questo lo scopri mediante uno studio uno studio di match analisi una strategia è una domanda molto complessa che dovremmo stare qua probabilmente un bel po' di tempo con la lavagna non perché lo insegno io ma per spiegarti quello che è la mia la mia idea noi cercheremo di lavorare in tutti gli aspetti lavorare tantissimo con la linea difensiva lavorare tantissimo con quello che è l'aiuto dei centrocampisti nella linea difensiva i nostri attaccanti si devono spendere per aiutare la squadra a difendere e deve avere coraggio quando c'è la palla se noi riusciamo a trovare un equilibrio in questo penso che l'Empoli abbia le capacità per fare di nuovo un campionato importante non scontato buongiorno Guastella Gabriele Radio Bruno la mia più che una domanda è una riflessione che coinvolge tutti sono cresciuto con le parole del presidente che spesso ricordava che nel 1982 accompagnava i dirigenti portava la borsa con la prima squadra poi lei è diventato presidente dieci anni dopo e adesso ha due suoi collaboratori più stretti il direttore sportivo e adesso anche il mister che sono del classe 82 credo che la forza di questa società sia stata anche nel tempo rigenerarsi scegliere persone e soprattutto fare provare a fare calcio con idee nuove sì ora grazie però volendo noi quando ci si trova una sera si va a mangiare una pizza e si e si affronta questi argomenti e magari insieme a Biuzy e a voi si potrà anche progettare di scrivere non un libro ma più libri perché con uno non si fa nulla per cui si farà onore alle persone che ci hanno aiutato che hanno aiutato voi a crescere le persone che hanno dato un contributo a questa società cioè un libro va fatto su magazzineri per dire no che non era a mente ma nessuno ma sono fondamentali e col magazzineri è sbagliato credetemi insomma ci si è avuto uno quando ero bambino io che mi sembra che è morto allenatore Renzo Olivieri quindi avevo un allenatore che aveva una certa personalità aveva 32 33 anni Renzo e io ero neanche portavo le borse e ero lì accanto a magazzineri allora c'era uno ve la racconto perché è bellina perché si chiamava in Moro c'era la lavagna e il venerdì scriveva la formazione e arrivava l'allenatore e gli diceva per me e già avresti poi fa e ti fai e sembra una barzelletta è una barzelletta però descrive un po' Renzo che poi è diventato quello è diventato ha avuto anche il suo percorso di crescita quello di gestire anche i magazzineri per dire quello non era propriamente era giusto perché Renzo era giovane era ai tanti aveva personalità sicuramente se non c'era di base quei contenuti insomma poteva creare dei problemi a un allenatore soprattutto nella gestione dei ragazzi il Moro mi fa giocare e lui mi fa giocare per dire quindi questo vi dice che sì le persone mediamente insomma si sono anche cresciute insieme ecco rispetto all'ambiente quindi si è partecipato alla crescita in questo ambiente ideale insomma ora volevo dire una cosa sui mercati il mercato l'hanno parlato giustamente loro noi cercheremo di mantenere questa squadra che è già abbastanza delineata con l'innesti che diceva Pietro e vorremmo di non avere il problema di gestire un'eventuale proposta su certi calciatori ecco per tanti motivi prima perché il distacco cioè distaccarsi da Aslanio da Ricci per dire io l'ho visto a dieci anni giocare però vanno a giocare squadre importanti quindi l'Empule ha anche bisogno di fare certe operazioni ecco mi auguro che non ci sia ecco non voglio fare nomi di quello dell'altro che sia il problema di instaurare una discussione con nessuno ecco a cominciare dai procuratori ecco però insomma mentre dico questo voi sapete quando abbiamo trattenuto giocatori molto importanti che avevano richieste in società più importanti noi abbiamo sempre sbagliato e conta molto l'entusiasmo l'occasione e gli segre ai ragazzi che arrivano a Impul cioè noi dobbiamo essere il meglio per loro e condividere questa cosa insieme a loro cioè non sacrificare noi abbiamo sacrificato ditelo voi di Natale Rocchi Maccarone Saffonara l'abbiamo tornati tutti un anno in più Pucciarelli Cribari insomma non è che diventa un campione Cribari comunque un buon giocatore ha giocato in Serie A anche lui però capito noi sappiamo questa cosa e ce la diciamo perché noi non vorremmo cioè noi dobbiamo condividere questa cosa tutti insieme e cercare di fargli dare il meglio a questi ragazzi ecco questo lo dico perché è una riflessione che la possiamo fare anche insieme perché noi si va di là si fa due chiacchiere e così come si fanno ora ecco siccome lui per esempio l'allenatore ha scelto rispetto a altre cose più importanti comunicamente ha scelto Impoli perché li rappresentava il meglio per lui professionalmente per quello è il suo pensiero di fare questo mestiere e questo a noi ha un valore se poi viceversa c'è stato degli allenatori che dice io vuoi via perché perché io non vengo perché ho la serie A e te che cosa ci fai anche se tu c'è un contratto e noi ti devi inchinare rispetto a certa con dispiacere perché insomma noi se ci sono ma anche i preparatori atletici c'è capitato che dice io ci sto bene qui però ho la serie A e che ci fai te hai la serie A no noi Impoli c'è qualcuno anche a livello di settore giovanile sono andati via dopo cinque anni dice potrei no uno che fa migliora deve aspirare a migliorare e no con un ragionamento che voi conoscete conoscete e che ci pone me e Pietro perché ovviamente siamo noi di fronte a situazioni che ovviamente c'è un po' da decidere c'è da decidere quindi le decisioni spesso si fanno si fanno bene e poi a volte si fanno meno bene in passato io ho trattenuto Saffonara l'ultimo sono stati Saffonara e Pucciarelli che ce l'hanno chiesti e il 20 d'agosto Pietro Terri è dalla parte di qua vero e noi non si sapevamo e fa neanche a sostituirli tra l'altro due giorni prima ci sapeva Verdi in mano che poi Bologna l'anno dopo ci ha preso 25 milioni Verdi aveva detto che veniva da noi allora quasi Pucciarelli si sarebbe venduto insomma sono situazioni in cui spesso si sbaglia ma noi 9,9% si è sbagliato a trattenerli io vorrei trovare gli argomenti per essere entusiasta entusiasti tutti di una loro conferma grazie 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 a tutti.